molto dirigente anche in fase difensiva, è questo che vuole Antonio Conte dai suoi esterni d'attacco da Bernardeschi a destra, in signa a sinistra, sacrificio anche quando c'è il momento di rincorrere l'avversario Ghezze Rudy si propone Müller in sovrapposizione, lo vede Osile, ecco lo servito Müller, addomestica il pallone, pronta a Cross l'effetto a passo, Bonucci con la punta, Cross il vantaggio della giornata ha segnato Tony Cross il segno è un fYes, non possiamo evitare Don Gianni, questo capito è anche su questo Il segno di rincorrere l'accazione Da Ghezze sengono in fronte Ghezze, che sia rimb fatty Dei italiani, non riteni è assolutamente in conditionsi e quale metterà il aree gioco in una valla nazione nel campo 50 Grazie a tutti Grazie a tutti